La biblioteca civica di Valdagno si è classificata a seconda sul podio del premio internazionale Best Green Library Projects, grazie al suo progetto della Biblioteca dei Semi, piazzandosi alle spalle della biblioteca della città canadese di Vancouver e davanti a quella di Seoul in Corea. La direttrice Marta Penzoni ha parlato ai microfoni della rubrica di Radio Eco Vicentino L'Eco dei Comuni